Siamo a Brancaccio, Palermo. Qual è lo scopo di questo evento? Allora, questo evento è nato perché volevamo far capire alla gente che in questo paese c'è unità. Brancaccio è uno dei quartieri più poveri di Palermo, come sapete, e volevamo unire i quartieri più poveri in una manifestazione di giochi e di ragazzi che mirano all'unità del mondo. Abbiamo pensato di fare prima un momento di giochi, cioè dei veri gruppi. Infatti si chiama Workfest perché ognuno fa un work, un lavoro, un gruppo. Ci sono i gruppi che fanno danza, i gruppi che hanno realizzato un bellissimo murales, vicino alla cappella di Padre Puglisi che è stato sostinato ed oggi è l'anniversario della morte di Padre Puglisi, che era un padre molto importante per Brancaccio. E poi ci sono stati i lavori di gruppi che hanno fatto dei giochi per conoscersi un po' meglio e trasmettere quest'unità che c'è tra tutti. E alla fine questa giornata si concluderà con uno spettacolo finale in cui i gruppi che hanno danzato esporranno le loro coreografie, ci sarà anche una band. E sarà divertente e sarà ed è divertente per tutti. Infatti io vengo da Catania, però sono venuta per divertirmi e per dire che io in rappresentanza di un'altra città vengo perché so che è importante la pace del mondo, perché sono certa che si può realizzare. Ok, ti ringraziamo.